... Riuniti sul campo di Guidonia per una eccezionale occasione il generale Urbani e il generale K il sottosegretario Malintopi e il generale Silvestri tra gli addetti aeronautici quello americano quello inglese con la signora quello argentino inoltre gli addetti militari francese, inglese e svizzero Beton con la signora l'ambasciatore Dan dagli spettatori agli attori questo è il muso questa è la coda dell'F-84 Thunderjack il maggiore Evans, comandante della pattuglia chiude elettricamente la patta quattro di questi turboreattori a flusso assiale venuti dalla loro base in Germania faranno una dimostrazione di acrobazia il modello data dal 44 impiego normale, caccia e bombardamento leggero raggio di azione 1300 km quota di tangenza 15.000 metri velocità 960 km il colonnello Scott illustra le evoluzioni la manovra si inizia con una virata in cabrata di profilo si vedono bene i serbatoi alle estremità delle ali picchiata il Thunderjet ha sei armi di bordo è provisto di razzi, war, bombe incendiarie e a frammentazione serbatoio di Napalm tonno tra le nuvole si naviga il mare in silenzio ma la navigazione nel cielo progredisce superando il fragore del tuono quando brillano nell'azzurro questi apparecchi sono come un vibrar di sé